Vanessa e Greta sono le due cooperanti, come si dice, per le quali Renzi disse che non era stato pagato nulla per il rilascio. Ora è saltato fuori di 11 milioni di euro, addirittura alcuni giornali parlano di 20 milioni di euro. E allora sono con l'avvocato Angiolini che a telecamera è spente, non vi dico quante ne ha dette, ma ora magari affronterà la cosa in maniera più formale. Più soft. Allora io sono assolutamente disgustata del fatto che lo Stato italiano debba spendere i nostri soldi, perché questi presunti 11 milioni di euro sono soldi nostri, di noi cittadini che si pagano le tasse, per liberare queste due ragazzette che si divertivano ad andare a fare le cooperanti nei paesi a rischio. Noi siamo un popolo e soprattutto abbiamo un governo che non ha gli attributi, perché l'America, l'Inghilterra... Gli attributi sono i coglioni? Sì. Cioè non ha i coglioni sotto, li ha di sopra? Sì, non pagano. Cioè i loro militari, i loro cooperanti muoiono, sanno perfettamente che se vanno in quei territori è a loro rischio e pericolo. Noi invece no, noi invece dobbiamo pagare per riportare queste due, che per quanto mi riguarda le potevano lasciare in dove erano, perché non è che era una scelta loro che avevano fatto liberamente e come tale liberamente dovevano rimanere lì. E poi l'altro aspetto politico è che noi abbiamo un presidente del Consiglio e anche un ministro degli esteri, Gentiloni, che sono due bugiardi e che continuano a prendere in giro gli italiani. Ma purtroppo noi italiani questo ancora non l'abbiamo capito, che questi ci stanno prendendo in giro e stanno dilapidando così i nostri cittadini. All'epoca c'era un ambasciatore meraviglioso, che non ha fatto un cazzo, però aveva un nome, Staffan de Mistura. Oh, che per dirlo ci voleva tre ore. No, che sembra un callifugo. Ma io devo precisare anche una cosa, sono della stessa idea e dicevo queste cose anche quando c'era Berlusconi, che pagava con i soldi dei contribuenti per liberare le cooperanti. Quindi chi va in questi paesi a rischio ci resta, perché noi non si paga per riportarli a casa. Ma se costano 11 milioni di euro queste due, per i Marò, che mutuo c'è? Bravo, bravo. Cioè i Marò sono ancora là, cioè uno parino è qua perché è mezzo morto. Queste le abbiamo riportate a casa. I Marò che sono i nostri soldati, no. Basta, te l'ha detto. Sì, basta, dopo io mi infervoro, dopo io vado di fuori. Meglio finire così, via. Arrivederci.